Musica E siamo qui con Maurizio di Carale, vincitori di questa edizione della gara delle botti Sì dai, è stato molto bello, ci siamo divertiti tanto e credo sia la prima volta che vinciamo, perciò più contenti di così E' la prima volta? Diciamo di tutte le frazioni, mi sembra così, adesso mi ricordo, è la prima volta che vinciamo la gara delle botti E da quanti anni è che si fa questa gara? Il paglio è da 11 anni che lo facciamo, questa qua sono 7 anni che facciamo la gara delle botti Quindi insomma, una bella soddisfazione, anche perché ho visto che proprio sembrava che Veriago andasse verso la sua seconda vittoria in due anni Invece no, ci sono capottati Sì abbiamo vinto noi, dai bello comunque Siamo divertiti tanto e niente, sono contentissimo Il gruppo composto da lei, Maurizio, con? Il gruppo siamo in diversi, dopo come stasera c'era un bisogno di solo tre ragazzi per poter fare la corsa Ieri sera altri hanno fatto l'altra corsa, quella del troncone Domani sera niente, domenica quella della vendemmia la faranno degli altri Siamo una decina, se non di più, che ci dividiamo i compiti diciamo Ok, quindi insomma forza carale E beh, sempre Grazie mille A voi, ciao 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 Ciao